Buongiorno ragazzi sono Harry Lanz e bentornati in questo nuovo video sul mio canale Oggi ragazzi siamo tornati in Villa Elitz E oggi ando con gli Elitz più Ivano Perché infatti andremo a fare la parata challenge Vogliamo vedere chi sarà il portiere più forte degli Elitz Il video sarà composto da 3 challenge quindi 3 mini allenamenti da portiere Mi raccomando ragazzi un bel mi piace Iscrivetevi al canale Passate al canale ragazzo che trovate in questa descrizione Detto questo iniziamo La prima sfida come vedete vieni Mario fai vedere Ci sarà questo praticamente ostacolo Bisogna tirar la palla raso terra E tutte le cose che sono qui in mezzo serviranno a deviare il tiro Ovviamente la parata andrà fatta sul pallone che si calcerà Quindi nel caso la palla dovesse entrare si perderà il punto grazie appunto a quel pallone Ovviamente se il tiratore volesse fare per qualsiasi motivo al mondo Il tiro senza farla deviare vale lo stesso Tre parate a testa porto giù in porta Ragazzi Marte mister Anto ricorda il tuo tricipite sinistro cosa sta scritto Guardati da dove vieni Anto Eccolo lì Anto Anto primo Vado? Ancora parto alto Vabbè lo rispettate Conto Enrico? Ma infatti si Harry fammi faremo le cose Harry dopo questi due tiri tu divertino poco Un'entrata Ma io ho tirato quello Vabbè No io ho tirato quello No questa è No mi devo mettere La girata con qui Ho tirato quello Ho tirato Questa anche per Vabbè ragazzi L'ho parlato tutte quante Quindi tre punti Vediamo il prossimo portiere Si saprà fare di peggio È il turno di Tati Cioè mister in porta in questo momento Vai Tati Sei pronto Anto? Una bella deviazione Oh Sei 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 Che culo Vai Vado Vado E' la madonna Vado 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 Hai tirato proprio come David Luiz Anto Harry Non potrei rimanere con i miei punti Quindi Cosa Harry? Mambrodo quel conetto Perché non l'ha deviata Tre parate anche per mister Non mi importa In questo momento Tati sarà il tiratore Dati un consiglio Prendi la battiglia quella davanti Che deve essere inizio Ok ci provo Ti Da Ti Da Ti No Ha rimbalzato Ma sta roba Dai l'ostacolo Pronto? Stai Ammazza È troppo forte raga Ragazzi Allora devo capire un attimo Quale strumento colpire Perché non è facile Forse Harry ci consiglia la bottiglia Ma Vado un attimo La sensazione Oh Lorenzo Oh se l'aspettavo A sinistra Hai tirato diretto La fammuc Beh Omar Due punti E basta Vado in porta Vai Tati Però vado senza guanti E senza maglia Perché sono il vero king Beh il tiro posso farlo come voglio Vai Perciò Tati sei pronto? Vai vai Sei? Io sì C'è anche Chiusgamer davanti No no Vai 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 No Nella tonda Vai io Arriva Victor E allora parte Victor Un team man Un po' fallato Chius Prossimo portiere Ragazzi Dovevi calciare Vai vai Tati Calcia giù Come vuoi Arrivano sotto Tati Con le mani Come vuoi Ti tiro del pinguino Corpo basso Tati corpo basso Se quindi si alza Per niente Andrei sei pronto? Certo Oh Siamo schigati Dai Ragazzi Oltre a home Io dopo voglio mister Perché mi sento che fa gull Posso andare Enrico? Vai In corsa Andrea Con le mani Vai Astro Muto Andre non mi piace questa situazione Vai Vai Harry Andrei Capito ma mi aspettavo una grande direzione Eh mi dispiace Vabbè mi dai la mano? Certo Pronte va? Da così vicino però Certo no Ma porta La pantera nera Allora visto che Non stava funzionando Proprio benissimo Questo meccanismo Abbiamo deciso di Per l'ultimo tiro Di avvicinare la porta Perché Ivan deve perdere Eri posso tirare io Vai vai Grazie Andre come se facessi un passaggio Filtrate su FIFA Triangolo Va bene vai Oh Potrebbe essere l'unico portiere a aver preso due gol Sprint boost e servirà qualcosa Prima challenge è andata Ora passiamo alla piscina Che lì veramente ci sarà da tuffarsi Seconda challenge dopo essere stati sul campo Siamo in piscina Devo fare tre parate In acqua però questa volta ragazzi Quindi non ci sono scuse per buttarsi Eccola la merda Eccola vai io Testa di merda veramente Pronto Enrico No No ma sciottalo E uno Grazie ragazzi Qui la mano amico Ivano Ivi cera Non subito Mi raccomando Ora arriva il secondo Fai a rimbalzare sull'acqua Guarda Fai a rimbalzare davanti a poco tre metri prima della porta Qui Su Vai Così non vincerai Ti vado in porta Saluta Vai Enrico Questo è il gol Mi stai andando A chi va? Ti va a stare Asciutto Che rimbalzare ma sticci Cosa ne pensi del tuo amico universitario? È stato mio amico di tante Arustano Vai Ivano Ma scusa È stato? Un amico di tante battaglie Per ora dovrà perdere la guerra Pronto Eva? Il mio campo Non avrei vita facile Andrea Andrea perché proprio quel pallone stai scegliendo? Perché proprio quella camicia E quanto l'hai pagato soprattutto? Henry Si è buttato mezz'ora prima cazzo Mannaccia culo Vai Enrico Vai Fartelo stesso Enrico Beh compagno di siete Compagno di siete Ho fatto la parata laser Godo Non dico Non dico Non dico Non dico Non dico Spara Stavo andando a piedi Con la testa del muro Anto Henry vuoi prendere la porta una volta? Ready? Eccolo Che crossbar cazzo Ragazzi decidete poi Ti rimbalzo Giro Stati tira a cazze cana Chi fa il countdown? Uno Due Tre Vai Oh Oh Allora Misterio mio cugino come sapete Farò un tiro clean Perché clean? Per cui si sa In inglese andrebbe a parlare in questo momento Ragazzi Allora Misterio in porta Farò un tiro perfetto E Come dire Clean Appassare il shot Vi farò vedere Ok Oh Era questo quello che intendevo Antonio Un'azione miracolosa E' stato sfortunato Per Pagli e Troverso Anto No no Questa non ho toccata Lo giuro Non ho sfiorata Hai sfiorata Non è per me sai Grande e meraviglia Per me no Non l'ha sfiorata Pronto? Sì 22 km orari Quanti due Oggi non è giornata Non riesco mettere dentro un pallone Con il 22 Viene il 23 ragazzi O scema Vado Ho messo faccio Oh yes Oh no Tutto 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 Devi partire E lui invece ti ha Cresimato denti Anto Anto Andrei vai in porta Che ti calcio io Vai vai Andrei Poi io vado in porta Prediction Mi segnerà solo Henry Henry ricordati la Prediction di Andrea Allora Ti posso dire una cosa? Sì Fai come vuoi La vorrei alta Ok Allora Henry oggi Passina Oggi niente Non c'è il piede oggi C'è stancato È stufo Tu sei Andrea? Bell'alta Dai E' pronto? Grazie Oh Vente Valore Ben Omar Ragazzi Per ora non mi sono gettato in piscina Perché Cioè che mita va a fa Poi piena Poi Quindi Vediamo Sull'ultimo tiro Sarà lui Il reivano Dal caivano Terza ed ultima challenge Come vedete Qui abbiamo due porticine Il portiere dovrà stare centrale In ginocchio Ci sarà una seconda persona Che lancerà la palla Alla terza persona Lì davanti Che ovviamente dovrà segnare Il portiere dovrà Cercare di evitare Farsi fare gol Amici Vai parto io Eri sei già lì Iva come in allenamento Vai Andiamo Eri ti ho spiazzato un botto Questo era gol Solamente che le porticine Sono divise Vabbè raga Andate a fare gol voi Dai Vai mister Oh no Malo 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 Porca miseria Che va la voglia sul piede Andre Viano Eh beh però Era un bel gol Se l'avessi fatto Sì con due metri di porta Vai più Scusi quanti quali pensi che prenderai Io Eh Uno da te Aspetta Bravo Henry Hai indovinato Andre Eh ma più che altro Riflessi riflessi Guarda tocca a me Andre Scusi ma cos'è sta mozzarella Eh volevo appoggiarla Io già so dove la tirerà home Chezzo Oh Ma si può Una strunza Pira alert Vai andrei preso un gol Ho preso un gol ho detto da te Quindi Sto bene così Sto bene Sto bene Venetati Ah va bene in porta Eccolo Ah 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 Sto ti vado io Sto in casa Sto segno mi dite un bacio sull'ombelico Sì ti bacio il canone Vai andrei Nooo Nooo Eeeh Vado Siiii Om Per ora nessuno ha tre Ok Sono me Ok Sono io Sì Vado Vai Sì Oh Sforca mano Vabbè Ma ci vado da qui Dai Harry Eh oh Ma Ma da lì Da lì un vero portiere Aveva fatto attacco palla Sarebbe dato sui piedi Ma non so dove arriva la palla Come faccio a fare attacco palla Ma vai a cagare Om ma sei zitto Va a fare l'ingegnere Va Antot sei Sono Eeeh Rubim on Percy Om ma ti dico un segreto Il portiere si butta Ti va ci sei Mi va in bocca Oh questo vale tu Tu hai in mezzo alle camp Enrico ci sei Vai Bello e mano La si tira Il gesto tecnico Più bello della vita Vai Om Ci sei Porca madossa No Esatti Ragazzi vado io Vediamo Om come me l'ha parato Non te la riderò mai in bocca Vabbè No Andre No non vale Non vale vale No vale 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 Beh Io vado Secondo me è il migliore In questa squadra Sì sì Sei va Sono Fatti lo stesso Alto Presidenti Sei ov Sì Ma lolla Siamo porca droga Harry Vado Continuare forte Harry ti prego Ci sei Vai Questo è un attaccante Questo è un attaccante Io e Ivano abbiamo preso zero gol Mister e Om Due gol Io mi sa due Due o tre Due o tre Due però Tatti uno Questo turno Io e Ivano Ce lo siamo andati a casa Bravo Quindi ragazzi Questo video finisce qua Spero vi sia piaciuto Allora Nei commenti Sì Fate sapere voi Chi è secondo voi I miei portelli dell'Eliz Anche se Sul campo Tatti ha vinto Perché in totale Ho preso solamente un gol In tutte le tre challenge Quindi un applauso a Tatti Bravo Tatti Mi raccomando amici Iscrivetevi al canale Passate il canale ragazzuoli Che trovate qui sotto In descrizione E niente Ci vediamo Ad un prossimo video Ciao